Dai ritardi nelle somministrazioni ai furbetti che potrebbero aver avuto prima del previsto la dose del vaccino anti-covid. L'ultimo polverone in ordine di tempo a creare allarme è stato un post pubblicato sui social dall'onorevole segretario del PD Marco Lacarra. Mi giungono voci di gravissime crepe nel piano vaccinale e in particolare di fatti gravissimi accaduti qui in Puglia, ha scritto Lacarra. Persone che non hanno alcun titolo per accedere ai vaccini anti-covid riescono a farselo somministrare sfruttando conoscenze e favori. Mentre persone con patologie gravi, malati oncologici, tanti anziani con seri problemi di salute aspettano il loro turno. Per Lacarra questo è un crimine vergognoso. Ma il segretario regionale Demma non ha fornito al nucleo ispettivo regionale sanitario della Puglia, ha incaricato dal presidente Michele Emiliano alcun nome e ha ridimensionato i toni della sua denuncia social fatta solo per sensibilizzare l'opinione pubblica su certi argomenti. E questa mattina in un altro post Lacarra ha aggiunto Mi attiverò per dare direttamente alla procura le informazioni in mio possesso. Ciò che sta avvenendo in Puglia, se non fosse tragico, sarebbe ridicolo, ha detto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, che aggiunge, qui non si tratta di inutili polemiche politiche ma della gestione dei vaccini in piena pandemia. Alla magistratura chiediamo di fare in fretta, i pugliesi non meritano di assistere a questo teatro dell'assurdo. Intanto i carabinieri del NAS di Bari, su delega della procura, hanno acquisito gli elenchi dei cittadini vaccinati. Dei circa 30.000 nomi contenuti nelle liste relative alle vaccinazioni di gennaio e acquisite in tutte le strutture sanitarie dove nel primo mese di campagna vaccinale anti-covid sono state effettuate le somministrazioni, sono un migliaio. Si apprende da fonti investigative quelli che risultano fuori elenco. Per il momento le verifiche riguardano solo le prime quattro settimane della campagna vaccinale, la cosiddetta fase 1 che coinvolgeva il personale sanitario e le RSA. In molti casi fuori lista risulterebbero studenti o operaie edili, ma che lavorando in quel periodo in ospedale o in altra struttura sanitaria sono stati legittimamente vaccinati. L'inchiesta è tuttora senza indagati né ipotesi di reato.